I soliti gnoti, te, quinta, giornata uno. Ma che vuoi? Buona! Guarda un mestiere impegnativo, vuoi al massimo che andate a lavorare. Ma guarda le città. Oh, ma che è? Non la voglio. È buona, basta i ceci. Ma come si apre sta barattola? Oh, uno degli scassinatori. Devi tirà così. Muccio, pure il piaccio, beh. Ci sono quattro involtini. Ci ho una scaldatina. Mi pare che ci manca dell'olio. Ma non mi pare, oh. Dalle mie parti dicono Fimmi una piccante, pigliabbi un'amante. Fimmi una cuciniera, pigliabbi un'amante. Ragazzoli, ho paura che abbiamo rotto la canna dei castri. Non... Non... Fimmi una cucina... Grazie a tutti.